ciao a tutti siamo sul torrente alta val brembana diva ninja da drop shot 110 grammi io lo uso per tutti e lui per tutto lunga due metri mi viene comodo veramente a fargli un sacco di tecniche diverse di pesca e lo shimano naschi 2005 armato con dello 016 clorocot però non clorocarbone appena appena un po più elastico infatti non mi convince molto vedremo qualche rotantino e passiamo qualche momento sul torrente oggi noi a 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